per rivivere quei momenti di gloria del 2008. La Coppa è il primo obiettivo raggiunto, vorremmo fare anche meglio e magari poter vincere il campionato. Ma non ho obiettivi personali da raggiungere, quello che mi interessa è il miglioramento della squadra. Ci sono dei leader, non sono soltanto io, c'è Martin Lunen, Alex Haker, tutti cerchiamo di portare la squadra in alto aiutandola a crescere. A Trento non sarà assolutamente facile, ma sono un'ottima squadra, hanno degli ottimi giocatori ed un buon allenatore ed in casa sono temibili. Adesso dobbiamo avere l'attenzione rivolta soltanto a Trento, dopodiché potremmo pensare alla Coppa. La sensazione, per la verità, è positiva. Joe è un ottimo giocatore, intelligente e con talento, come molti all'interno di questo roster. Le critiche che ci sono state nei miei confronti e le perplessità non mi hanno dato assolutamente fastidio. Io penso a guardare avanti.